Come Gesù non si è risparmiato per redimerci, sforziamoci anche noi di non mai risparmiarci in questo campo dell'amore, del sacrificio e dei dovuti ringraziamenti a questo divin cuore. Ma noi non possiamo far quasi niente o niente proprio, perciò invochiamo l'aiuto della Mamma Celeste affinché ci sia in questo di aiuto, di sprone, di conforto e di perseveranza. Grazie a tutti! Grazie a tutti!